Il signor Malusen ha l'ufficio reclami. Malusen, la sua mansione al grande magazzino, in cosa consiste esattamente? Prendo l'avate di capo. Quegli armadi sono zeppi di reclami, Malusen! Sono la prova della sua incompetenza! Finché i clienti che sollevano un problema non ritirano il reclamo. La legheremo, la impacchetteremo per le feste e la butteremo via con i rifiuti! Ecco, non arriverei a tanto. Io sì? Io no. Io sì. Io sono il capro espiatorio. Che problema la porta qui? Ecco l'addetto al reparto giardinaggio. L'addetto al reparto piastre per capelli. Sì, è colpa mia. Il risultato? Carbonizzato tutto il pranzo di Natale. Solo una ringa è sopravvissuta. Fichissimo! Vieni pagato perché ti possano sgridare. A me non danno un soldo.